Torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino, 0825 19 31 778. Nel giorno dei morti i chisantemi resuscitano e sembrano più accessibili per le tasche dei consumatori. Nel caos dei caro prezzi per lampade, parcometri, fiori, in questo caso anche i ciclamini, danno respiro ai cittadini impegnati in questi giorni di commemorazione nel ricordo dei propri cari. Rispetto agli altri anni quindi è un prezzo che è calato? È passato quasi del 50%. Come se lo spiega? Si spiega perché la temperatura è stata buona, la roba è uscita, non è macchiata, e beh quest'anno abbiamo fiori belli a prezzo buono perché c'è l'abbondanza. Ricordatevi che i fiori non aumentano ai morti, i fiori aumentano a dicembre quando arriva il freddo. La temperatura è stata ottima, quindi diciamo che tutto sta andando per il verso giusto. La concorrenza agli abusivi si fa sentire? Quella c'è sempre, quella c'è sempre, quella là c'è sempre. Riccardo, storico fiorista velinese che in questi giorni è installato con altri venditori di fiori il gazebo nel piazzale situato davanti allo stadio, rilancia l'ipotesi di realizzare un giorno un espò nei pressi del cimitero di Avellino. L'unica città che non ha i posti al cimitero è Avellino, cioè noi fiorai che vendiamo di questo periodo oppure tutto l'anno, i tre giorni che si va in fine settimana dovrebbero avere dei chioschi al cimitero. Il comune purtroppo non lo fa questo, allora ci dobbiamo adattare dove troviamo un poco di spazio per poter svolgere la vendita alla meglio. Ma la cosa ideale sarebbe quella di metterci su al cimitero e tenere Avellino pulita, senza abusivi, senza nessuno. I locali vendono i magazzini per fatti loro, noi staremo al cimitero, quindi le persone sanno che devono arrivare là e non dobbiamo stare sotto le tende, sotto gli ombrelloni a prendere freddo, a dormire qua perché ci devo fare delle strutture. Ma come in tutte le città d'Italia, non sto dicendo niente di sbagliato. Grazie.